E come è andata la prima assemblea organizzata a Cerete per discutere di questa ipotetica fusione? Allora, sono molto soddisfatta della serata perché c'è stata molta partecipazione, quindi hanno colto i cittadini l'invito, come avevo inviato a tutti i capi famiglia, indicando le motivazioni importanti del perché avevo indetto questa assemblea. C'è stata molta partecipazione, quindi molta attenzione a questo tema, veramente molto importante. Credo che sia una scelta epocale e quindi sia indispensabile e in modo democratico coinvolgere i cittadini e fargli scegliere su questa decisione così irreversibile. Perché se si andasse o se si andrà a un comune unico, significa non poter più scegliere di tornare indietro. Quindi è come un matrimonio dove non è prevista la separazione. Quindi dobbiamo essere veramente consapevoli che questa sia la scelta giusta. Non bisogna guardare quindi di andare in comune unico perché la legge ci darà delle agevolazioni fiscali, anche se siamo in un momento di crisi, ma bisogna guardare oltre. Quindi è una scelta che va riflettuta, valutata. C'è stato veramente un momento molto importante che i cittadini hanno colto, quindi l'importanza di questa scelta. Quindi ci saranno ancora delle altre fasi successive di approfondimenti, anche perché nell'ipotesi che i miei cittadini attraverso il referendum votassero no alla fusione, c'è anche l'ipotetica probabilità di rimanere staccati dagli altri comuni che magari vanno alla fusione. Noi ci rimane l'obbligo di unire le funzioni, i servizi, e in questo caso quindi ho chiesto e sto attendendo la risposta da Regione Lombardia che lei ha autorizzata a legiferare in merito, cosa mi riserva il futuro? Perché chiaramente se gli altri comuni andassero alla fusione non avrebbero più loro l'obbligo di unire le funzioni, perché supererebbero i 3.000 abitanti e quindi non sarebbero esentati. Io credo che questa scelta è una scelta che va appunto valutata e ponderata in modo serio, e anche perché ho proposto questo ai miei cittadini, anche perché quando sono stata eletta nel 2009 nel programma elettorale non c'era questa proposta nel programma di andare verso la fusione, non se ne parlava nemmeno, quindi mi sembra doveroso coinvolgere i cittadini e farli scegliere. La prossima assemblea pubblica sarà sabato prossimo presso l'Azio delle scuole elementari di Cerete Basso, quindi vi aspetto numerosi, in quell'occasione dovrebbero garantirmi la presenza anche i consiglieri regionali che avevo invitato anche per Cerete Alto ieri sera, ma per impegni non sono riusciti a venire, quindi sarà un momento anche di confronto con loro. E dopo le due assemblee innanzitutto darò la risposta ai cittadini, informerò quello che sarà la risposta che attendo da Regione Lombardia. e in programma di invidere un referendum per la fine di gennaio e inizi o inizi di febbraio, dove quindi i cittadini potranno esprimere il loro voto di andare verso l'Unione o di rimanere come Cerete. E l'amministrazione sceglierà in base al risultato che ne scaturirà da questo referendum.